Buongiorno, benvenuti, benvenuto. Benvenuto, collega. Per fortuna che c'è, oltre alla legge, anche, ho ragione avvocato. Ah, pensavo l'inganno. No, che ci informa sui nostri diritti o almeno sulle problematiche del diritto. Almeno il tentativo è questo. Esatto. Come sapete, oramai per il nono anno consecutivo la nostra trasmissione cerca di portare della informazione giuridica, a volte anche grazie alle vostre domande, alle vostre incertezze e naturalmente risposte precise non possono essere date in questo ambito, ma almeno una valutazione globale dei problemi, degli argomenti. Cerchiamo sempre di dare risposte per quanto riguarda quelle tematiche che sono di interesse generale. Non entriamo mai, ovviamente, nello specifico. Esatto. Proprio oggi io ho la possibilità di rispondere a una specifica domanda che mi è stata formulata, ma che riguarda un ambito molto, molto generale. Non abbiamo deciso chi dei due inizia. Allora, decidiamola adesso. Decidiamola adesso. Allora, io parlo di responsabilità dell'istituto scolastico. E io parlo invece di diritto alla riservatezza e di denuncia fatta non a livello penale di querela o denuncia o esposto, ma a livello amministrativo. C'è privacy, c'è possibilità di anonimato in questo tipo di denuncia. Ho capito. Allora, non mi sembra il caso di fare pari o dispari. Inizia lei per... Accetto con animo grato, come si fa dai notai quando abbiamo le donazioni. Sì, sì, in questo caso. Dunque, l'argomento è abbastanza breve. La situazione che mi è stata sottoposta era questa. Da parte di un cittadino c'era stata una segnalazione al competente ufficio ASL per una ritenuta mancata di gene in un, come dire, laboratorio di professionisti. Ovviamente è una questione che attiene alle visite, alla salute e quant'altro. Il problema è che si lamentava appunto questa scarsità di gene, addirittura fosse la presenza di un animale, di un domestico si intende, che girava libero per i corridoi. E la segnalazione è stata fatta da questo cittadino all'ASL, la quale poi è andata a fare gli opportuni accertamenti e non avrebbe poi riscontrato anomalie di sorta. Il fatto è che il destinatario titolare di questi accertamenti, titolare appunto del laboratorio, ha poi saputo il nome, il cognome della persona che aveva fatto questa segnalazione, probabilmente con un accesso agli atti, questo non lo sappiamo, quello garantito dalla legge 241-990, e ha poi scritto una lettera, lamentando a chi aveva fatto questa segnalazione, una sorta di, come dire, situazione un po' caluniosa o comunque che non corrispondesse alla realtà, con anche una richiesta di risarcimento danni e quant'altro. La domanda che mi è stata posta è ma io ho fatto una segnalazione gradivo, rimanere anonimo, cioè l'ho fatta all'organo pubblico, l'organo pubblico avrebbe dovuto semplicemente accertarsi o meno, ma il mio nome poteva essere portato a conoscenza della persona che aveva subito l'accertamento, aveva diritto di sapere chi lo aveva, tra virgolette. Per cui se è coperto da anonimato, esatto, o stata violata la privacy, perché poi le parole che ricorrono sono sempre quelle, privacy o privacy, come abbiamo già detto in una puntata precedente. Devo dire che, a lume di naso, abbastanza grosso come si può notare ormai da nove anni a questa parte, la mia risposta è stata mi studio il problema, però evidentemente una questione di un esposto sia pure in sede amministrativa è sostanzialmente equivale a una sorta di denuncia o querela, cioè dico nelle forme, ossia l'anonimato non è sostanzialmente ammesso e ammissibile nel nostro ordinamento. Se io faccio una querela o una denuncia, la firmo e la sottoscrivo. Quindi, per, chiamiamola così, analogia, mi sono detto, ma anche un esposto amministrativo deve non solo essere sottoscritto e firmato, ma anche chi lo subisce deve poter conoscere sostanzialmente chi è stato l'autore di questo esposto. Bene, la intuizione ha trovato conferma in una ricerca molto chiara, molto, diciamo, ad hoc, in una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Brescia, sezione prima, sentenza del 29 ottobre 2008, numero 1469, che risponde al quesito. E la sentenza dice nell'ordinamento delineato dalla legge appunto sulla trasparenza amministrativa, la 241 del 90, ispirato a questi principi, del diritto di difesa e della dialettica democratica, state bene attenti, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni esposti o denunce che fondatamente o meno possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o comunque sanzionatorio, non potendo la procedente parte, dunque chiedo scusa, non potendo la pubblica amministrazione procedente, la PA, opporre all'interessato esigenze di riservatezza. La tolleranza verso denunce segrete e o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Si confrontino gli articoli 111 della Costituzione, 240, 195, 7 e 203 del codice di procedura penale. Al diritto alla riservatezza, ecco qui sta forse il nocciolo della risposta, pure costituzionalmente rilevante, non può pertanto riconoscersi ampiezza tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. L'anonimato sulle denunce o sulle dichiarazioni accusatorie è al contrario guardato con particolare sospetto dall'ordinamento. Da qui l'evanescenza e l'infondatezza di ogni tentativo volto a qualificare tale inesistente diritto all'anonimato come una prerogativa del diritto alla riservatezza. Già perso un po' di tempo ma in sostanza se qualcuno fa delle denunce sia in campo penale sia in campo amministrativo sappia che non potrà dire dopo ma io l'ho fatto voglio la privacy alias non voglio apparire voglio rimanere anonimo. La sentenza del 2008 del TAR di Brescia lo esclude in modo chiaro e categorico. Grazie. Benissimo allora passiamo all'altro argomento che appunto come vi avevamo accennato si tratta della responsabilità dell'istituto scolastico in un caso un po' particolare in un episodio di bullismo oggi come oggi purtroppo ahimè un fenomeno grave che va combattuto e in linea con questo mi sembra anche la giurisprudenza vediamo il caso allora innanzitutto partiamo dalla norma del codice civile l'articolo 2048 al secondo comma prevede che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza colpa invigilando dei precettori maestri maestri insegnanti e comunque tutto quello che ruota intorno all'istituto scolastico le persone il comma 3 prevede che le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto allora questo questo principio si applica anche nell'ipotesi in cui un minore subisca delle lesioni fisiche o psichiche a seguito di atti di bullismo se non dà prova all'istituto di aver adottato idonee misure di prevenzione del fenomeno e qui il passaggio è molto delicato perché sembrerebbe che uno ci si possa liberare facilmente non ho potuto impedire il fatto nell'immediatezza del fatto invece no è un po' come l'educazione dei figli data dai genitori infatti la scuola rappresenta insomma un luogo importante di sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti che si trovano da un lato a confrontarsi con i loro coetanei e dall'altro si trovano ad avere a che fare con un'autorità diversa dai genitori cioè la prima volta che hanno a che fare magari con un'autorità che non siano appunto i genitori e purtroppo capita sempre più di frequente che in questi ambienti il contatto tra minori e adolescenti possano anche sfociare in episodi gravi di bullismo da qui la necessità da parte dell'istituto scolastico di attivarsi per tempo preventivamente per evitare che queste manifestazioni di esuberanza giovanile possano sfociare in episodi di violenza sia fisica che psichica perché tante volte il bullismo colpisce non soltanto fisicamente ma magari prendere in giro in maniera o di buona come dire di buona convenienza ma è legato proprio a un principio giuridico stabilito appunto nel citato articolo 2048 al secondo comma per la verità già la Cassazione con una sentenza numero 2657 del 2003 aveva previsto che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per superare la presunzione di responsabilità ex articolo 2048 quella che abbiamo detto la prova di non aver potuto impedire il fatto articolo terzo comma dell'articolo 2048 grava sull'insegnante e sull'istituto no? per il fatto illecito dell'allievo che grava sull'insegnante non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo e repressivo dopo l'inizio della serie causale cioè dopo l'inizio dell'evento ma è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva e questo è sottile ma è fondamentale tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di una detta serie causale di 20 insomma tu ti accorgi che c'è un episodio di bullismo più episodio intervieni in quella circostanza e li blocchi o lo blocchi non puoi dire è stata una cosa immediata non ho potuto intervenire perché è stato un episodio che è partito e mi libero e mi libero in forza del terzo comma no in questo caso sia l'insegnante sia l'istituto sono onerati di intervenire preventivamente educare guardate che io ho educato che ho fatto tutto il possibile magari fare degli incontri è difficile però sono lì per quello i ragazzi sono lì per imparare che questi episodi non vanno fatti per cui bisogna inculcare aiutarli a capire che sono episodi da non fare ecco ma questo il tempo purtroppo è già quasi andato tutto però noi partiamo sempre da questi principi generali per dire che c'è stata una sentenza recente giugno 2013 del tribunale di Milano la numero 8081 del 2013 appunto che ha condannato il ministro il ministero dell'istruzione della pubblica istruzione che si cita il ministero della pubblica istruzione sempre non l'istituto scolastico ma il ministero della pubblica istruzione a risarcire i danni subiti da un alunno vittima di episodi di bullismo in questo caso violenze psicologiche e percosse tenuti questi episodi da lievi della stessa scuola e nel caso di specie il tribunale di Milano ha quantificato questo questo danno in addirittura euro 125 mila perché perché poi spiega il tribunale a seguito di una ctu il ragazzo una ctu sì tante volte diamo per scontato dei termini che poi non sono scontati in buona sostanza il tribunale di Milano ha fatto effettuare una consulenza tecnica sul bambino psicologica sul bambino che nel frattempo nelle more del processo è diventato maggiore e ne si è costituito personalmente in giudizio questo è un dettaglio e a seguito di questa consulenza tecnica è stato determinato che il ragazzo ha subito proprio una violenza un notevole danno un notevole danno conseguente quantificato in euro 125 mila è costituito sia dalle cure sia dal danno che il ragazzo si porta poi dentro a livello psicologico ecco questo allora stiamo attenti è compito nostro di genitori ma anche della scuola di educare i bambini e i ragazzi gli adolescenti forse più gli adolescenti però si inizia da bambini ed educare di che questi episodi non vanno assolutamente fatti grazie a tutti per l'ascolto e vi ricordiamo l'appuntamento alle prossime settimane con Ho ragione avvocato dagli schermi di Videonovara da Antonio Costa Gianmario Bastetti un arrivederci a tutti grazie a tutti